Questo manuale di istruzione Citrix ha 19 anni. 19 anni è la storia di Server Lab con Citrix. Ma i clienti si chiedono, che cos'è esattamente Citrix Xen Desktop? Citrix Xen Desktop è un po' il distillato, è il concentrato della cultura Citrix. Citrix è lo strumento di punta in cui si concentra tutta l'esperienza di Citrix. Che cosa fa Citrix Xen Desktop per le aziende? Ve lo dico in 5 punti. La cosa fondamentale è la numero 1, Citrix Xen Desktop consente di lavorare da qualsiasi postazione, con qualsiasi PC, Mac, tablet, qualsiasi sistema operativo, dal DOS in avanti, e con qualsiasi connettività. Quindi lavorare da qualsiasi parte al mondo con le stesse prestazioni che si avrebbero se si fosse a un metro davanti alla sala server, dove stanno dati i programmi e tutto. 2. Xen Desktop riduce drasticamente i costi di gestione delle infrastrutture informatiche. 3. Xen Desktop azzera, congela gli investimenti nei PC. Perché? Perché se io trasformo il PC in un ricevitore televisivo, non devo cambiarlo ogni 3-4 anni. 4. Riduce drasticamente i costi di aggiornamento software. Il ciclo di vita dei software impatta pesantemente sull'infrastruttura, perché ha continuamente bisogno di essere aggiornato. Ma se io invece di aggiornare 100 Office, ne aggiorno uno. O se io invece di installare e aggiornare 100 Photoshop, ne aggiorno uno solo. Costa meno. E in ultimo, ma non di minore importanza, tutto questo ha la sicurezza cablata, non appiccicata. Citrix Xen Desktop è intrinsecamente sicuro. Tutto quello che si fa con Citrix Xen Desktop avviene in un trasporto dati intrinsecamente cifrato e soprattutto non ci sono dati che vanno in giro, dati che vengono spediti a destra a manca. Quindi è intrinsecamente sicuro, non solo dal punto di vista infrastrutturale IT, ma anche organizzativo e pratico. Prenota la tua conference call dedicata, gratuita, compilando il modulo qui su Xen Desktop Server Lab IT. Così parleremo di quello che ti interessa maggiormente di Xen Desktop. Ciao! Server Lab